ritorniamo live dal nostro palco future channel con camera di commercio rete 7 e è venuta a trovarci la ringraziamo antonella di bartolo beh buona giornata e benvenuta grazie grazie per l'invito uniamo davvero l'italia dalla sicilia da palermo a torino com'è questa tua esperienza al salone del libro che cosa porterai a casa ai ragazzi dell'istituto di cui sei preside allora intanto è la mia prima esperienza del salone tra l'altro è il mio primo libro che racconta in realtà non una storia personale ma una storia di comunità e anche forse di una generazione una generazione che è stata sventrata dai crateri di via d'amelio e di capaci nel 92 con le stragi falcone borsellino e con l'omicidio di padre puisi l'anno successivo in in quartieri ancora segnati pesantemente dalla criminalità organizzata dallo spaccio di droga la scuola è luce la scuola può diventare un punto di riferimento per le famiglie del quartiere per le famiglie per bene del quartiere che sono la maggior parte e soprattutto per i bambini e le bambine uno dei capitoli che si chiama proprio la scuola è luce racconta come per tre mesi i quartieri sperone brancaccio sono rimasti al buio per una banalissimo furto di rame che ha lasciato al buio questi quartieri in cui tre mesi c'è a droga h24 e la scuola ha deciso i sette plessi noi abbiamo deciso di tenere accesi i sette plessi durante tutte le sere e i bambini dicevano che nel buio totale l'unica luce che vedevano dalle loro stanze era la scuola e questo ci ha detto che eravamo stavamo facendo una cosa bella questa esperienza tua di preside di un istituto comprensivo proprio del quartiere sperone brancaccio la racconti edito per mondadori da domani c'è scuola la preside coraggio che riporta i bimbi a scuola domani c'è scuola che significato ha questo titolo e questa frase cioè fino a quando un domani c'è scuola c'è ancora speranza domani c'è scuola è sempre è un titolo semplice come dovrebbe essere semplice andare a scuola ma ci sono luoghi in italia non soltanto a palermo non soltanto nei nelle periferie delle grandi città in cui una cosa così apparentemente semplice non è scontata non è un diritto per tutti e per tutte 11 anni fa in questa scuola dove io veramente ho avuto la fortuna di arrivare e c'era una dispersione scolastica del 27 per cento cioè più di un bambino su quattro non andava a scuola e pensavo che fosse l'esito di un errore di calcolo e domani c'è scuola vuol dire che a tutte e tutti dovrebbe essere assicurato una cosa semplice vera e bella come la scuola hai parlato di questo libro di questa esperienza con un'esperienza corale no che è poi quello che la scuola dovrebbe essere ossia un'esperienza di comunità allora qual è il significato di questa presenza non solo per i bambini ma per le mamme per i papà o per i nonni e la scuola dovrebbe essere l'infrastruttura sociale ancor più che educativa più diffusa nel paese ed è bello se c'è un atteggiamento di riconoscimento delle famiglie nella scuola e viceversa e ci deve essere un dialogo continuo deve essere patrimonio della comunità patrimonio del quartiere e speranza di un presente migliore e un futuro possibile ecco non smettere mai di sognare non smettere mai di splendere non abbassare l'asticella dei sogni delle nostre bambine e dei nostri bambini e mi permetto di dirlo neanche di noi adulti spesso noi limitiamo i nostri sogni diciamo che non è possibile e allora molliamo non siamo perseveranti non ci innamoriamo dei nostri sogni innamorarci dei nostri sogni è quello che li può fare veramente realizzare un capitolo del tuo libro si intitola io sono stato e dopo quei quegli anni che tu hai citato il 92 e il 93 io sono stato risuona in maniera particolarmente forte quanto senti il ruolo di essere anche una frontiera etica all'interno del quartiere della comunità ma più in generale di tutto il contesto nazionale la cosa bellissima è che lo stato è presente ovunque grazie alle scuole se ci facciamo caso ci ragioniamo un attimo nei quartieri più sperduti ci sono le scuole e quello è stato le bandiere hanno un senso sono simboleggiano la presenza dello stato non è sempre facile rappresentare lo stato la scuola rappresentano ma non è sempre fatto quanto fa male di fianco a quelle bandiere in alcune scuole e parlo di esperienze della realtà di torino quindi vedere un calcinaccio che cade un muro scrostato questo vuol dire quanto lo stato tiene a tenere alta l'immagine di se stessa la percezione dello stato nei confronti dei cittadini e delle cittadine in particolare per noi è stato particolarmente difficile rappresentare lo stato e difendere lo stato e riportare sempre un'idea bella di stato i nostri bambini quando rappresentanti delle istituzioni avevano fatto promesse che hanno disatteso ecco le promesse disattese fatte da parte di rappresentanti delle istituzioni fanno malissimo e non si è sempre bambini le promesse fatte i bambini dovrebbero essere onorate mentre si è bambini perché passa un messaggio di fiducia nelle istituzioni che se si onora durerà per sempre ma se si sconfessa quella sfiducia nelle istituzioni quei bambini e quelle bambine se la porteranno per tutta la vita diventa difficile sradicarla e nel tuo lavoro di preside c'è un altro un'altra comunità con cui tu vivi e ti rivolgi che è quella del corpo docente degli insegnanti dei maestri e delle maestre mi permetto di usare quasi con un termine con una forma di maternità comunque di responsabilità di responsabilità forte come si tiene insieme l'entusiasmo di qualche docente piuttosto che i momenti di delusione di sfiducia di stanchezza semplicemente allora questo un libro per episodi e per storie da parte che raccontano l'operato di tante persone che fanno un mestiere meraviglioso che è quello di essere insegnanti l'insegnante è costruttore di futuro e bisognerebbe esserne fieri invece spesso ci si vive si vive male si vive con un senso di privazione di inefficacia invece è un mestiere bellissimo come quello di essere preside è un mestiere bellissimo bisogna avere riprenderci in mano il valore di essere educatori essere insegnanti l'insegnante è vero che non potrà cambiare il mondo ma può cambiare il mondo anche solo di un bambino di una bambina nella nostra vita basta anche un solo insegnante quello giusto quella giusta per cambiarti la vita qual è la pagina più difficile di questo libro da scrivere la pagina allora io devo essere sincera pianto spesso scrivendo me ne vergogno un po' nell'apertura del salone invitava il pubblico che affollava la sala nei riguardi di sua moglie per la perdita del figlio dicendo non smettere di piangere piangi piangi sempre piangi senza vergognarti dove ti pare io un po' me ne vergogno però io spesso scritto piangendo il capitolo che su cui non riesco a leggere senza piangere è benzina perché racconta una storia di parzialità di inefficacia di sconfitta non soltanto per la scuola ma penso che sia una sconfitta di tutti noi parla di un ragazzo di un bambino di 12 anni che ha una dipendenza da benzina si si sniffa benzina per non pensare perché non riesce a tollerare il dolore per avere un papà in carcere che è stato arrestato durante una delle infinite retate nel quartiere sperone per spaccio di droga che è stato portato via dalla polizia durante la notte che non l'ha svegliato che lui non ha potuto salutare i fratellini invece si erano svegliati per i rumori fatti un papà con cui lui aveva un rapporto bellissimo papà compagno di giochi lui non sapeva che che lavoro facesse suo padre lui pensava che andasse magari in un cantiere e tornasse la sera invece invece spacciava droga vendeva la morte a figli degli altri non rendendosi conto che quella morte se l'era portata a casa e suo figlio suo figlio ha la morte dentro e questa è una storia brutta triste di inefficacia ma che deve è un motivo in più per impegnarci ogni giorno il scrivere un libro e anche avere una bacchetta magica ricreare un mondo farlo rivivere regalarlo a qualcun altro creare un mondo immaginario ti lascio una bacchetta magina magica fatta di parole ma non di penna se dovessimo oggi eh offrire qualche cosa ai giovani che sono tantissimi che hai davanti a te stanno per entrare all'arena bookstock eh questa bacchetta magica che cosa regalerebbe loro il sogno il sogno non smettere mai di sognare di immaginarsi e di lottare di perseverare per i propri sogni domani c'è scuola antonella di bartolo edito da montatori grazie grazie grazie